Villa Saraceno fu costruita per viaggio saraceno tra il 1545 e il 1555. Tra le ville di Andrea Palladio, tuttora esistenti, circa una ventina, questa è una delle prime e meno sfarzose di una straordinaria semplicità. La famiglia Saraceno era giunta a Vicenza da Roma verso la fine del XIII secolo. Apparteneva alla novità minore e tra i suoi membri contava uomini di chiesa, avvocati e medici. La famiglia aveva anche accumulato alcune proprietà agricole nel basso vicentino, apportando migliorie al terreno e introducendo nuove colture e modalità di coltivazione. Le terre di Finale ad Agugliaro vennero suddivise probabilmente verso la fine degli anni 30 del 1500 tra i due fratelli Giacomo e Biagio. Il maggiore Giacomo ricevette la parte migliore della corte agricola e avviò la costruzione di un'imponente residenza a due piani, il Palazzo delle Trombe, tuttora conosciuto per la forma degli scarichi dell'acqua piovana. A poche centinaia di metri, il fratello Biagio decise di costruire un palazzo meno convenzionale e diede l'incarico a un brillante giovane architetto, che aveva su per giù la sua estessa età, Andrea Palladio. A lui venne affidato il compito di dare ordine e organizzare una corte agricola preesistente, ben più antica, ma del suo progetto venne realizzato solamente il corpo padronale, un puro volume costruito in mattoni e in tonaco.